primo esercizio ad esempio l'orso bruno vive in america mario è un vero orso con tutti in questo orso bruno indica proprio la razza dell'animale mario è un orso con tutti vuole dire che è una persona brusca ok quindi in questo caso è figurato e quindi vuol dire che sarà una persona un po chiusa brusca che c'è i modi un po burberi in questo senso qua marco ha perso la testa per elisa non è che ha perso la testa ma vuole intendere che è innamorato di elisa ho un forte mal di testa per dire il dolore ok che quindi ha il significato reale